Metà anni 60, New York, Bronx, i prezzi degli immobili calano del 60%, il degrado è diventato insostenibile. Essere adolescenti in quegli anni significava tre cose. Prima, uscire di casa e spacciare. Seconda, uscire di casa e rubare. Terza, uscire di casa e non tornare più. Oppure fare come Demetrius, uscire di casa con un pennarello. E ricoprire l'intera Manhattan con il suo soprannome, Taki 183. Replicare all'infinito il suo nome diventa un'ossessione. Fino a quando, nel 1971, il New York Times pubblica una sua intervista. Dicendo che è qualcosa che sente di dover fare. Centinaia diventano gli imitatori. Manhattan si riempie di firme. Non c'è muro o metropolitana senza che non ce ne sia una. Queste firme prendono il nome di tag. Il mondo del writing e dei graffiti nasce qua. Nel 1973, la città di New York spende 10 milioni di dollari per far arrestare 1560 writer. Di questi, nessuno si è mai arreso. La guerra per lo stile è appena incominciata. Le tag si trasformano ed ecco arrivare i primi throw up. Disegni più complessi. I throw up in breve tempo diventano graffiti. Taggare e bombardare i vagoni della metropolitana era il modo più veloce per farsi conoscere. I writer più virtuosi si riuniscono in gruppi. Ecco la nascita delle prime crew. Il writer che disegnerà il pezzo più stiloso guadagnerà il rispetto di tutti gli altri. Il gioco è questo. Il panorama urbano di New York si copre di nomi. Zephyr, Dondi, Sin, Futura, Blade, Comen, Duster e tanti altri. Soltanto nei primi anni Ottanta, al mondo dell'arte, sembra accorgersi dei graffiti. L'italianissima Francesca Linovi presenta la prima mostra sul writing e graffiti. Soltanto nei primi anni Ottanta, al mondo dell'arte, sembra accorgersi dei graffiti. Soltanto nei primi anni Ottanta, al mondo dell'arte, sembra accorgersi dei graffiti.